Con l'emozione l'emirato, l'emirato, l'emirato con l'emozione più, no, 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 no capisco il potere, no, non capisco a più. No, ma il potere dicevo la stanza è il potere, il potente l'avete creata voi oppure? Non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo. La leva dici qua dove stiamo? Eh, guarderanno la stanza è il potente, l'hai creata tu? No, però che l'avevo creata per me, perché con questo con l'altro PG magari posso parlare con voi. Non mi ricordo, non mi ricordo. Mi ricordo, non mi ricordo, io solo. Che dici questo? Mi ricordo di tutto. Tu ricordo di tutto il canale, come sui l'altro del pesero. Mi ricordo, mi ricordo, di tutto il canale. Non mi ricordo di tutto. A ver, tanker, questo, questo no, questo, mi hai tradotto a Jeff quello che ti ho detto che cosa, cosa vuoi che l'ho dita a Jeff? Hai tradotto a Jeff quello che ti ho detto prima di dirmi, cosa era? Sì, sì, come sta adesso, si mette la calza in una barrucca, un po' di cosetto, magari qua Ah, ma va bene, è Winry, Winry, è tanker L'avete già fatto? Sì Eh, vabbè, da me non cediva Ma Jeff non ha, non ha niente, tutto questo colore è buono Sì, la legenda è bella A ver, che divino è che se cambia, che manda Angeloui per il suo partore a quello con la altra persona Brugio, sei caldo? Sì, ha detto che entra perché Angeloui con la altra... No, non ho! Questo, questo credo sapere io Sì, che io vorrevo a parlare a fin di vero Che dice? Che dice? Che dice? Che dice? Che dice? Si sa più in Italia, ne dice? E risultato, è difficile parlare un idioma da loro Se confunde uno, non sai, a me non è passato, sto parlando in spagnolo, e continuo parlando in spagnolo Si, non è passato, non è passato Si, non è passato molto a me hermano, non mi piace parlare in spagnolo, invece io le abro la gente in spagnolo e non lo entiendo Ok, io ho ora mi faccio e calmare i punti di abilità, madri mia che mio dice ahi, la emozione mi cegò Si, non è passato Ah, entonè io le puse la gomma estrià, e la puse di DPS no 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 ora il 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 Grazie a tutti.